Tali è venuta fuori un po' di... Ma perché? L'ho visto serio che si occupa dei problemi dell'Italia, non era riferito a Tria, non è un concetto più generale. Comunque adesso il punto è che domani se vuoi uscire una cosa che vuoi essere simpatica, la metti come che nel Movimento 5 Stelle comunque è pronta una mega vendetta, cioè chi giura lo metti come fronte parlamentare, però chi giura che se poi non dovessero all'ultimo uscire fuori i soldi per la cittadinanza, tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del Mefa, non ce ne fregherà veramente niente, ci sarà veramente una cosa ai coltelli proprio, nel senso che ormai abbiamo capito che Tria c'entra il giusto, c'entra relativamente, ma qui il vero problema è che ci sono lì al Ministero dell'Economia una serie di persone che stanno lì da anni, da decenni e che hanno in mano tutto il meccanismo e proteggono il solito sistema e quindi non ti fanno capire tutte le voci di bilancio nel dettaglio in modo che si possa tagliare, perché non è accettabile che non si trovano 10 miliardi del cazzo, cioè non è che stiamo parlando di 200 miliardi, stiamo parlando di 10 miliardi, quindi una manovra di 20-30 miliardi la fanno tutti i governi, quindi non è niente di straordinario, il fatto che c'è questa resistenza fa capire che c'è qualcosa che non va e quindi se per caso, noi crediamo che tutto andrà liscio, ma se per caso dovesse venire fuori che all'ultimo ci dicono i soldi non li abbiamo trovati, dopodiché 2019 ci dedicheremo soltanto, ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di merda del MEF.